Riuscissi a trovare nella vita di tutti i giorni e sapendo che il tuo tempo, il tempo che stai spendendo lo stai spendendo per te, questo potrebbe essere il vero equilibrio che si trova tra la vita di tutti i giorni e la propria ricerca, che poi sia artistica o creativa o lavorativa, viene da sé. In passato furono i miei docenti, anzi direi meglio il mio insegnante di disegno al vero. Mi ispirò a comprendere appunto l'aspetto creativo come una di quelle cose dove la creatività può avere molteplici confini, anzi forse illimitati confini. Ad oggi ciò che mi ispira di più è l'approccio che abbiamo e la percezione che abbiamo del tempo, perché mi rendo conto che la realtà di oggi è una realtà molto veloce, molto rapida e ci toglie tanto di quello che è l'apprezzare l'attimo in cui i nostri linguaggi e le nostre direzioni possono essere cambiate. Quale è stato il lavoro più importante? Ecco quello è stato Sara, il ritratto di questa donna che si volta. e per me è stato diciamo il lavoro che mi ha dato lo sblocco e quell'intuizione che si potesse in un qualche modo riuscire a trasmettere allo spettatore l'idea di un attimo tradotto in un movimento, come un attimo nella vita di noi, nella vita di tutti i giorni ti può cambiare probabilmente il resto della tua vita. Io da ragazzo lavoravo in campagna, quindi mi ero molto a contatto con la terra, insomma, con quello che abbiamo sotto i piedi. Un ricordo che ho da giovane di quando venivano queste nevicate, non facevo i soliti pupazzi di neve, ma provavo a, non lo so, a realizzare il mio cane o cercare di riportare comunque qualcosa, una forma che avesse una relazione con la mia vita di tutti i giorni. Quindi credo che l'esperienza infantile crei nell'individuo un approccio al linguaggio che poi utilizzerà nelle proprie esperienze di vita. E di un linguaggio piuttosto che dire un linguaggio artistico o un linguaggio creativo. Posso dire che la scultura, se viene definita come scelta, è una scelta molto, insomma, coraggiosa. C'è tutto un procedimento molto complesso, ma in questa complessità c'è proprio il suo bello. E quello che per me è affascinante della scultura è che è quel linguaggio che è più reale, presente, e che dà modo di avere un dialogo molto, non solo emotivo, ma soprattutto anche fisico. Dei cinesi che ho conosciuto, sia studenti che amici, quello che ho trovato sorprendente è la loro capacità di apprendere velocemente non solo la lingua, ma anche delle tecniche. E la cosa sorprendente è che riescono a farle loro in modo molto naturale. Mi affascina tantissimo tutta quella che è la loro ricerca e la loro lavorazione artigianale. A fare un esempio, io sono rimasto stupefatto dalla ricerca della seta. Tutto questo spettro di un mondo a me sconosciuto, spero veramente che un giorno poterlo vivere in prima persona. Vorrei ringraziare tanto Sofia e Vasari Culture Media per questa intervista e per questa opportunità, e mi auguro anche di vedervi presto in Cina. Sì e sì è! Grazie! Grazie!